Stiamo facendo tutti i giorni il nostro dovere, le implementazioni tecnologiche che oggi presenteremo sono molto importanti, naturalmente non si può pensare che in tre anni e mezzo qualcuno riesca a fare quello che negli 30 anni precedenti è stato fatto in modo approssimativo, stiamo ovviamente facendo il percorso più veloce possibile, la velocità peraltro è quella consentita dalle leggi, dobbiamo fare gli appalti, dobbiamo farli con i termini, dobbiamo rispettare la parità delle condizioni e naturalmente tutto questo però farà dell'ospedale di Barletta sul quale ovviamente abbiamo puntato, io capisco che ci siano timori perché stiamo lavorando anche per la costruzione del nuovo ospedale di Andrile, ma questo timore non c'è, avere ospedali più complessi, più grandi, con più medici, con più attrezzature e concentrare lì i casi più importanti e di fondamentale importanza, è chiaro che però questi ospedali devono avere tutto e Barletta sarà un ospedale che sarà appena sotto i grandi policlinici di Lecce, di Bari e di Foggia, ma in linea di principio avrà tutto, ed è ovvio che ogni investimento significa anche che dobbiamo assumere il personale, ribadisco ancora una volta che se io non fossi riuscito ad attuare il piano di riordino, tanto odiato perché ha riconvertito alcuni ospedali, però solo questo mi ha consentito poi di trattare assunzione per assunzione le nuove assunzioni col Ministero dell'Economia e Finanza, perché i cittadini pugliesi devono sapere che purtroppo noi non siamo una regione libera perché me l'hanno consegnata in piano di rientro, che significa il piano di rientro? Che il Ministero dell'Economia e Finanza mi deve autorizzare ogni assunzione, stiamo riuscendo a fare qualche assunzione e ne faremo tante altre perché abbiamo fatto il piano di riordino. Nel frattempo siamo saliti moltissimo nella classifica dei livelli essenziali di assistenza, siamo a 179, che è il livello più alto mai raggiunto nella storia della Puglia. È chiaro che non basta, ci mancherebbe, lo so pure io, ma io devo continuare a lavorare, mica mi fermo qua.